Purtroppo dobbiamo continuare a fare un esame di coscienza e continuare a lavorare perché sappiamo che volendo, se stiamo tutti insieme, essendo una squadra compatta, riusciamo a portare i risultati. Nel primo tempo avevate in mano il pallino del gioco, avete resistito molto bene a due power play e poi dopo avete fatto il vantaggio, poi che cosa è mancato nel secondo tempo? Sì, come ho detto, secondo me magari le piccole cose, abbiamo fatto un po' di cambi lunghi, ci abbiamo provato, abbiamo tirato anche abbastanza, loro sono stati belli compatti, sappiamo che giocano uomo a uomo, dovevamo magari cercare di prenderli uno contro uno e cercare di andare sulla porta. Purtroppo è andata così, sappiamo che adesso è difficile, la strada sta andando un po' male, ma non dobbiamo essere frustrati perché secondo me se continuiamo a lavorare seguendo il piano di Gianni Nazzi, secondo me possiamo farci. Lugalo comunque a livello di impegno ce l'ha messo tantissimo anche nel terzo tempo, siete arrivate vicini, avete preso due pali anche oggi, un gol annullato in modo un pochino poco chiaro, tutto il fatto l'impegno c'è stato, ma probabilmente è un periodo che gira tutto storto. Sì, secondo me è così, adesso purtroppo sta girando davvero tanto storto e sì, è molto difficile, questa partita è stata difficile, volevamo vincere a tutti i costi, ci abbiamo anche provato, sì come hai detto te abbiamo preso anche dei pali, un po' di sfortuna, l'arbitro non ha dato il gol, fa niente, bravi loro e noi dobbiamo cercare di non pensarci e continuare a lavorare. Forse andare a giocare contro la prima in classifica, contro Giova Servetti, che sulla carta si parte sfavoriti, può essere un vantaggio? Sì sicuramente, sappiamo che tutte le partite sono dure, la nostra posizione di certo non è delle migliori, semplicemente non dobbiamo guardare la squadra, o almeno io non cerco di non guardare la squadra e ogni volta che sono sul ghiaccio cerco di dare di più del 100%, anche oggi ci ho provato, però purtroppo non è bastato. L'ultima cosa, prima giocavi in prima linea, poi ne ho spostato in seconda, ne ho spostato in quarta linea, per te l'impegno c'è sempre, comunque ti trovi bene con tutti? Sì sì, a me piace giocare con tutti, Giovinazzi mi sta mettendo un po' in prima, in quarta, per cambiare un po' magari gli animi, comunque sa che io porto molta velocità alla squadra, quindi dove sono nella linea cerco di fare del mio meglio e comunque sto facendo bene. Grazie mille.